Emozionante partita al Palace Anquirico tra il Città di Asti e il Città di Sesto, un 5-5 pirotecnico frutto di una partita giocata veramente tra tantissime occasioni e tantissime opportunità. Man of the match Fortino che ha seglato una tripletta di cui l'ultima addirittura con un gran colpo di tacco. Tutto questo però non è bastato al Città di Asti per portarsi a casa a tre punti che avrebbero potuto continuare a giocare nella speranza di vincere e di agguantare naturalmente il primo posto in classifica ai danni del Petrarca. Nel corso dell'intervallo sono state inoltre sorteggiate le Final Four e quindi gli accoppiamenti per la finale di Coppa Italia che si terrà il prossimo 15-16 marzo. Ma ora la voce ai protagonisti. Con il Città di Sesto non sono mai partite semplici per il Città di Asti. Hai fatto una tripletta, hai vinto anche il premio come miglior giocatore, forse l'avresti barattato per una vittoria. Certo, sicuramente. Nessuna partita è facile, non il Sesto, però abbiamo visto già anche altre partite. Dobbiamo essere più concentrati su tutti i punti nella partita, nel primo tempo, principalmente nel secondo, dove la squadra si vede che si cala fisicamente, è netto. Dobbiamo curare questo se vogliamo arrivare o fare qualcosa di importante, perché si vede anche altre partite che abbiamo perso, tutte le partite che abbiamo perso abbiamo perso nel secondo tempo. Allora questo va rimediato, perché se no sarà duro. Certo, però guardiamo la partita di oggi, l'ultimo gol è stato un colpo di tacco fantastico. Sì, loro erano molto chiusi, ci ho provato questo tacco, ci avevo provato anche altre volte, adesso mi è riuscito bene, male, meno male. E comunque una tripletta anche oggi? Sì, una tripletta, però non ci è servito tanto. Vale tre punti per Città di Asti, non la tripletta di Fortino. Devo anche ringraziare oggi, il palazzetto era quasi pieno, abbiamo bisogno di loro anche in Final Four, perché saranno delle partite anche molto molto difficili, io ho un ringraziamento anche a loro. Cele, mai partite semplici con Città di Sesto? No, con loro, ne parlavo con un ragazzo, è sempre così, arriviamo alla fine che o loro o noi succede sempre qualcosa, diciamo. È stata, credo, una partita bella da vedere, credo che il risultato alla fine sia giusto, loro hanno preso tanti legni, noi abbiamo creato tanto, però comunque penso che sia giusto il risultato. Ora abbiamo il Genova e sicuramente lotteremo fino alla fine, alla fine vedremo come saremo piazzati. Mister, mai partite facili con Città di Asti, però avete un conto anche con la sfortuna, dieci legni tra andate e ritorno non è male? A parte la sfortuna, è stata una grande gara, ha giocato molto bene da tutte e due le squadre, il pubblico penso che si sia divertito, è la nostra caratteristica, noi non molliamo mai, alla fine cerchiamo di stare in gara, cercando poi di sfruttare le nostre migliore qualità.